Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo video, sono Andrea Slayer Oggi per vostra sfiga Stavo facendo il video mentre ieri ho perso 50 partite di fila Perché ovviamente saperemo dopo un po' deve arrivare quel giorno Non ci sa perché ma deve arrivare E quindi da Smeraldo 4 sono Platino 2 Qua è Platino 3 Ok Vabbè, comunque Oggi non ce ne frega niente della partita persa di ieri La vinceremo lo stesso e pian piano rienderemo a Smeraldo Vabbè, abbiamo 15 giorni, 2 settimane Ma sì, ma Smeraldo, ma ci ritorno Ma vaffanculo, dai, forse Ho bisogno del vostro supporto Mi raccomando ragazzi, una bella iscrizione Un like al video se vi piacciono questi contenuti E un commento per sapere cosa ne pensate Se volete altri giochi, se volete qualcosa Vabbè, bella per voi ragazzi Ci becchiamo in partita Ok signori, siamo su Oregon Niente cazzate E si vince subito 4-0 questa partita Allora, essendo che sono Platino 2 In teoria ci dovrebbe essere la gente più scarsa Perché io a Smeraldo 5 Riuscivo a giocare normalmente, no? A Smeraldo 4, quasi Smeraldo 3 Che ero arrivato lì e ho iniziato a perdere Perché è andata di sfiga insomma un po' Comunque, non parliamo di questo Qua in teoria Platino 2 sono La gente dovrebbe essere un po' più Cioè, dovrei unicularli un po' di più, eh In teoria In teoria Adesso vediamo Ecco questo Ok, raga, quanto lo invidio Io quando vedo la gente che ha lo sfondo Smeraldo Lo invidio troppo Perché io stavo puntando allo Smeraldo 3 Stas season per arrivare allo sfondo dello Smeraldo Però Poi sono arrivato a Smeraldo 4 Con 66 RP Mi mancavano due partite per lo Smeraldo 3 Due E poi niente, ora sono Platino 2, raga Cioè, bella per noi Il problema qual è adesso, no? Non tanto di vincere Perché le vincerò Il problema è che quando vinci Ti dà 13 RP Perché dopo che ne perdi tanti Ti dà pochissimi RP Quando vinci Vabbè Da dove arriveranno stavolta? Ah, arrivano da 1 on armory? Cosa? Dì già Cazzo è Sperò che non plantino di là Mentre sono qua Sperò che non plantino di là Che troia Te ne ha plantato i stronti Bene 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 Reppling Upside home Namo Dai E se inizia bene Let's go Quello col C4 dove l'ho beccato? Perché l'ho lanciato da Dalla dietro Minchia ho fatto un vuole Il C4 che boia L'ho lanciato bene Adesso raga vado a rubare con alibi Io Let's go Vado a rubare con alibi No raga vi giuro che quando vedo lo sfondo smeraldo mi viene da piangere Cioè è troppo bello E pensare che questa season non ci arriverò perché Forse eh Chi l'ha detto? Magari posso conbeccare e le vinco tutte Chi lo dice? Mai dire mai raga Questo gioco è tutto possibile Perché io dico no Se ho perso Molte partite di fila Posso vincere anche tante di fila Nessun problema Mai arrendersi raga Allora Qua c'è il mira Qua c'è il mira Ok 3-1 qua Ok Qua c'è il mira Il buchino in mezzo Si va rum Ash Stupido Coglione Vedete perché dico che ha platino 2 in Toria La Oh cazzo Vabbè raga Che palle Sti cazzo di Montagne Blitz E poi Porca troia Sti cazzo Sti cazzo Già No raga Che cazzo Godo Non l'avevo visto Era nell'angolino lì Raga Ma come puoi essere così cancro a metterti lì Oh mio dio Io lo sapevo C'è stato Un cazzo di Di person Di operatore lì dietro Dietro Blitz Perché non potevo pushare Blitz C'era qualcuno dietro Infatti c'era Ma non lì Che cazzo lo sapeva Porco dio Andiamo Dai C'è un drone Adesso guarda No ma perché sta Facendo così Sto cazzo di Ace Volevo fare con Maverick Vabbè Dio porco Dio porco Io volevo andare Stealth con Maverick Che sto qua si mette a briciare Dio canta Da dove? Da dove? Meno male Sono arrivati Sti qua da dietro Porco dio Questo qua è smeraldo Dai bro Fai qualcosa Vi prego Raga Ce l'avete Nice Dai E cazzo Go Ma come ha fatto Non vederlo Ma raga Ma c'era pure davanti Non ha visto la clema Ma che coglione Gli occhiali Ma stavolta Sono andato in basement Fia di puttana E come ha voluto Andare sopra Con Noc Insomma in basement Vanno al cellulone Vanno al cellulone Purtroppo è rinforzato Però si può andare Ma questo qua? C'è qualcuno a sinistra Mi sa Non lo so però Ah no Dove cazzo è? Ah è qua È qua Oh stronzo Oh Madonna Stavo per uccidere Blitz Porco dio Non lo so Non lo so Non lo so Nice Stai cazzo Sti stronzi Che vincevano solo Perché avevano Il doppio shield Monti Più blitz Guardate come la stanno Prendendo in culo Adesso qua va Assurdo Mannaggia l'occhio Dai ragazzi l'ultimo round Ce lo incuriamo stavolta E vaffanculo Sfondar di qua Dio porco Vai scampi di puttana No percato che ha rinforzato la porta Potevo andare stelta Non lo sapevano Sfondate che Non so se c'ha un cavera o no Perché uno ha detto cavera Io per sicurezza vado a vedere qua Che magari si nasconde Ok No niente 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 Dai e blitz Dai niente Non posso farla Perché ha blitz Plant plant Non ci credo Dovevo ricaricare Interrogating Interrogating Nice nice Mamma mia Sono un coglione Non avevo colpi E quindi mi è arrivata cavera E io ho tirato un colpo E basta Gli ho canto Dai abbiamo giocato bene Cioè questo qua era smeraldo 10 kills Abbiamo giocato in due praticamente Comunque si Cioè raga Questi platino 2 Sembrano dei coglioni Cioè io devo ritornare smeraldo Che questi qua Non avevano testa Non so se solo sto team Era handicappato Degli avversari Dico Oppure è proprio sto rank Che Sono handicappati la gente Tre valori Grazie Vabbè blitz Diamo un dedication Valori Esco Dai Raga Ah guardate i punti Guardate il bel Più 12 Più 11 Qualche Oh Che bello Un bel più 13 Che cazzo Ah buona raga Detto questo Vi spero che questo video Si è piaciuto Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Se vi è piaciuto Un like Se vi è piaciuto Il canale La campanella E vi è piaciuto Il prossimo video E noi ci vediamo Come sempre Al prossimo video Bella ragazzi